Cinque rapine commesse tra il 23 settembre e il 29 ottobre del 2021, tutte a danno di donne d'età compresa tra i 60 e gli 80 anni, nelle zone di Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi, Venezia. È per questi fatti che la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due cittadini marocchini di 33 e 47 anni, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza del condominio Teatro di uno dei loro ultimi colpi. Gli arresti costituiscono così l'esito di un'attività di indagine che ha preso il via dai racconti delle vittime che hanno sporto denuncia. I poliziotti sono riusciti ad individuare un medesimo modus operandi tra le varie rapine che li ha indotti a ritenere che i responsabili dei singoli episodi delittuosi potessero essere gli stessi. I rapinatori infatti sceglievano appositamente le proprie vittime, ovvero donne dai 60 agli 80 anni, che indossavano monili d'oro ben visibili e che potevano essere sottratti strappandoli con violenza. Allo stesso tempo i rapinatori preferivano per entrare in azione il tardo pomeriggio, verso l'imbrunire, in concomitanza con il rientro delle vittime non accompagnato e presso le proprie abitazioni. Dopo averle seguito fino a casa infatti è atteso il momento propizio, il primo immobilizzava da dietro la malcapitata e il secondo le strappava di dosso il gioiello per poi scappare. Decisiva è stata però la rapina perpetrata il 25 ottobre scorso in via Predabissi, quando i due rapinatori sono stati ripresi dalle telecamere interne del condominio. I due sono stati subito riconosciuti dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni per pregresse e attività di indagine, cosicché a breve distanza dalla rapina i due complici sono stati sottoposti a fermo e, dopo aver perquisito le loro abitazioni, i poliziotti hanno rinvenuto gli stessi abiti indossati al momento della rapina, descritti anche dalle vittime e dei quali si erano disfatti per sviare le indagini.